Ciao Italia, ciao, ciao colleghi, ciao. Allora, Mattia Calise vi ha fatto questo grande regalo di farmi parlare dopo in posimato e di presentarvi una persona che si chiama Elio Lannutti ed è il presidente dell'Adusber, l'associazione a difesa degli utenti dei servizi bancari una persona di cui abbiamo molto bisogno. Grazie. Elio Lannutti. Buonasera, buonasera, grazie a tutti e per me è un grande onore parlare questa sera nella piazza della questione morale nella piazza di Enrico Berlinguer quella questione morale che è stata venduta, barattata, di ripesa da partiti geneticamente modificati, partiti che una volta difendevano i lavoratori, la povera gente, oggi difendono i banchieri, difendono i grandi potentati. noi ci battiamo da 27 anni come Adusber a difesa dei diritti e della legalità. Guardate, oggi c'è il titolo su un giornale la banda bancaria, la banda bancaria, sono 27 anni che noi ci battiamo contro i banchieri, a difesa dei cittadini massacrati da Equitalia, che abbiamo combattuto le mafie invisibili, le tricche di malfattori, la raffica di inchieste giudiziarie che stanno portando agli arresti, magnoni della topa con i calizi. grazie